se andiamo al pratico quando ci dobbiamo confrontare con la prova scientifica quello che vedete in questi due in queste due immagini e quello col quale il giudice e che noi stessi dobbiamo fare i conti adesso che sia un sequenziatore di profili genetici o l'analisi di un disco rigido se non capiamo la tecnicalità che sta dietro questi eventi è chiaro che noi stessi non abbiamo alternativa se non affidarci al consulente di parte la domanda che ci dovremmo fare è ha senso perché questo perché in particolare per quanto riguarda il discorso della prova informatica che lo dico fra parentesi rileva non solo nell'ambito dei reati informatici ma rileva anche e soprattutto in tutta quella serie di illeciti nei quali le componenti informatiche costituiscono prova corruzione concussione stalking minacce quello che vi pare cioè tutti elementi che non fanno parte della della categoria dei reati informatici propriamente detti ma che però ritornano come elemento probatorio di fatti specie di tipo diverso quindi ripeto possiamo affidarci al consulente tecnico perché la risposta è no la risposta è no primo perché se magari sulla balistica sulla medicina legale sulla chimica su altre discipline più consolidate anche soltanto per notorietà accademica professionale via discorrendo siamo in grado di capire se il consulente col quale interagiamo è degno di fede nel caso dell'informatica tuttora nonostante gli oltre vent'anni venticinque anni passati dalla introduzione dei reati informatici nel codice penale siamo di fronte a consulenti in cerca d'autore e quindi diventa estremamente difficile potersi fidare di un di un consulente tecnico a livello da da delegargli la la scelta di assumere determinate decisioni c'è anche un altro un altro aspetto e cioè molto spesso questi consulenti informatici pretendono di fare anche il nostro lavoro sfruttando la nostra preparazione magari non non perfettissima su questi argomenti pretendono di vendere determinate teorie che magari saranno anche affascinanti dal punto di vista tecnologico ma che in un processo non hanno minimamente senso anche di questo parleremo nella nella componente pratica adesso immagino che la domanda che vi starete facendo è sì vabbè ma mica possiamo diventare esperti di genetica forense di informatica di di qualsiasi cosa no però quello che possiamo fare imparare a capire come funziona il metodo scientifico quello che possiamo fare imparare a capire se le cose che gli argomenti che ci stanno presentando i consulenti siano essi di parte del pubblico ministero o del giudice hanno senso oppure no quindi padroneggiare il metodo scientifico che lo dico subito è totalmente diverso dal metodo di ragionamento che adottiamo quando dobbiamo impostare un processo e anzi fare un processo adottando il metodo scientifico è un suicidio perché la nostra logica è una logica totalmente differente rispetto a rispetto a quella di un esperimento o di una ricerca noi abbiamo una logica avversariale il nostro obiettivo abbiamo il dovere di essere faziosi nella nella tutela dell'interesse del cliente con l'unico limite che è quello del rispetto della legge uno scienziato non può essere fazioso uno scienziato deve mantenere un rigore che non che a un avvocato non è richiesto o potrebbe non essere richiesto proprio per il fatto che la dialettica processuale sia a livello di impostazione della strategia sia a livello di gestione del dibattimento può anche avvantaggiarsi di errori di dimenticanze di vizi formali e beh non ve lo devo certo dire quindi ripeto quello che è importante nell'interazione con i consulenti è saper ragionare perché il metodo scientifico il ragionamento scientifico quello sì è trasversale rispetto a tutto dopodiché se non se non altro per esperienza facendo processi sempre più spesso in determinati ambiti è inevitabile acquisire anche competenze tecniche però la cosa importante ripeto non è di non tanto non è tanto diventare maestri in una particolare disciplina quanto saper formulare le domande e soprattutto capire le risposte delle risposte questo è drammaticamente essenziale nell'esame del consulente di parte del perito di parte e nel controesame del del perito del pubblico ministero perché il rischio in particolare per quanto riguarda gli aspetti della prova informatica è di avventurarsi in aspetti tecnici che poi non si è in grado di gestire quindi se il il perito dovesse dare una risposta sbagliata ma che non siamo in grado di riconoscere per tale ci siamo messi da soli all'angolo e non abbiamo modo di uscirne c'è un un aneddoto mi sembra che riguardi Voltaire non vorrei sbagliarmi comunque alla corte alla corte dello zar di russia l'intellettuale francese stava esponendo le sue teorie a te a questo punto lo zar sfruttando il l'ignoranza dell'intellettuale in matematica gli dice o gli fa dire da un da un suo da una persona del suo entourage due più due fa quattro quindi dio esiste e a quel punto Voltaire o chi o chi fosse al suo posto non ebbe nulla da rispondere perché non potendo valutare la la correttezza dell'affermazione non potete fare altro che incassare la sconfitta e andare e ritirarsi in in buon ordine questo per dirvi cosa la regola cardine del dell'esame e del controesame evitare di fare domande alle quali non si conosce una risposta vale ancora di più quando c'è un elemento tecnologico o scientifico da discutere se il giudice si può appoggiare al perito al suo potere di dichiararsi perito speritorum come via di fuga questo a noi non è consentito non vi sarà sfuggita peraltro quella giurisprudenza che comincia a dire che sì vabbè ma il giudice non è che può capire di tutto o può sapere di tutto che è una palese con da un lato una confessione di finalmente di onestà intellettuale ma dall'altro lato è anche una una confessione di fallimento dell'istituto stesso del concetto di peritus peritorum perché se comincia a radicarsi un orientamento giurisprudenziale che sottrae il dovere di conoscenza in capo al giudicante beh allora crolla una parte importante della valutazione delle consulenze delle risultanze tecniche dei dei processi penali della lascio come stimolazione potrebbe essere la l'argomento di un ulteriore incontro ho raccolto per dimostrare da quanto tempo sono radicate certe certe attitudini una serie di estratti da sentenze di processi che ho fatto ma anche di dichiarazioni riportate dai giornali che hanno come filo conduttore il rapporto potremmo dire complicato con le risultanze scientifiche la prima citazione tratta da un caso di pedopornografia conclusosi con la soluzione del dell'indagato nel quale il giudice dibattimentale scrive in motivazione va subito precisato che siccome gli agenti operanti non hanno preso adeguate misure volte a garantire l'identità dei file oggetto di trasmissione il perito ha correttamente sottolineato che i file rinvenuti sotto la predetta directory non possono essere identificati in senso tecnico come gli stessi oggetto di trasmissione da parte dell'apg bensì come file di identico contenuto ora la cosa singolare è che tutta questa giurisprudenza di cui vi parlo sostanzialmente non ha trovato una una diffusione particolare questo anche perché trattandosi di argomenti molto tecnici difficilmente poi sono stati riproposti nei processi che invece non erano poi così frequenti e quindi non c'è stata la possibilità di creare un un orientamento giurisprudenziale o un'analisi giurisprudenziale più più dettagliata sull'argomento qual era il caso una delle prime applicazioni della normativa sul contrasto alla pedopornografia agenti operanti della polizia postale si attivano fuori sotto copertura e nella agganciano una persona in chat e la inducono a scambiare del materiale adesso non rifaccio il processo perché ci sarebbe tutto il tema poi stigmatizzato pesantemente dalla cassazione circa l'istigazione a scambiare dati a scambiare file come atto totalmente fuori dai poteri di polizia ma non è di questo di cui parliamo oggi fatto sta insomma che quello che succede che nel nello scambio sollecitato dall'operante che agiva sotto copertura venivano inviati e scambiare venivano inviati dei file il al all'indagato qual era il ragionamento della polizia giudiziaria mi sono procurato in giro per la rete dei file di natura pedopornografica glieli mando siccome sono certo che glieli sto mandando io quando vado a fare il sequestro so già che cosa cercare per cui se trovo lo stesso file allora ho la prova che era quella persona o comunque chi aveva la disponibilità di quel computer ad essere ad avere la disponibilità appunto ad essere titolare dell'account che stava facendo la chat incriminata anche questo è un ragionamento dal punto di vista logico privo di senso però questo è l'approccio che cosa succede vanno a fare il sequestro trovano effettivamente questi file però e qui entra la conoscenza dei meccanismi tecnici del del settore quello che la polizia postale aveva dimenticato di fare era di marcare il file in altri termini emerge in controesame perché lo dichiarò poi l'operante che che partecipò a questo scambio in termini di in fase di controesame il l'operante dichiarò che il file oggetto di scambio era stato trovato online e quindi era sostanzialmente reperibile da chiunque nel momento in cui trovo lo stesso file come dice la sentenza file di identico contenuto sul sul computer dell'imputato nella disponibilità dell'imputato come faccio a essere certo che quello che ho trovato è esattamente quello che ho che il poliziotto ha scambiato la soluzione sta in una parola steganografia è una tecnica che in realtà risale all'antica grecia significa chi ha frequentato il legio classico avrà già capito significa scrittura segreta ed è un modo per nascondere informazioni all'interno di un testo la steganografia funziona anche con carta e penna ma si può praticare anche con con i file e quindi sarebbe stato ben possibile questa stata e questo è stato l'argomento alla base del controesame del dell'operante che argomento che poi è stato recepito dal raggiudicante ben avrebbe potuto la polizia marcare di nascosto il file oggetto di trasmissione anche semplicemente inserendoci il numero del di rgnr e quindi fare in modo di precostituirsi la prova indiscutibile che quel computer era quello che ha partecipato al allo scambio di materiale in in chat mi può sembrare un una cosa straordinariamente tecnica ma in realtà non è non è così sta di fatto quindi che la la conoscenza di del di questi meccanismi di protezione delle informazioni si è rivelata fondamentale per definire una strategia penalistica la cosa interessante di quella di quel controesame e anticipo quello che dirò più nel dettaglio in avanti e che il per una sorta di forse non voglio chiamarlo complesso di inferiorità ma per una sorta di voglia di di rivincita nei confronti dei difensori gli operanti che sono addetti al che sono addetti al alle indagini informatiche quando vanno sul banco dei testimoni hanno la straordinaria tendenza a parlare tantissimo per far vedere che sono molto bravi o magari permettere in dubbio il permettere in difficoltà l'avvocato a volte funziona molto più spesso la cosa si ritorce contro di loro perché siccome adesso non è più così perché si cominciano ad avere degli operanti un po più formati e un po più preparati ma per molto tempo siccome anche loro avevano e hanno tuttora una formazione tutto sommato limitata subiscono lo stesso chiamiamolo effetto volter cioè si subiscono l'eccezione del 42 più due fa quattro quindi dio esiste che cosa vuol dire vuol dire che dal punto di vista della della impostazione del controesame o dell'esame è importante sondare le capacità tecniche del del testimone voi sapete che nel nostro ordinamento non esiste il test esperto ciò nonostante l'operante di polizia specie se appartenente a nuclei specializzati come quelli della polizia postale oppure dei dei ris e associati verrà a tutti gli effetti utilizzato dal dal giudice piuttosto che dal pubblico ministero come un consulente chiamiamolo eh impectore questo che cosa significa significa che eh nella progettazione del controesame dovete sondare le eh conosce le reali conoscenze le reali capacità tecniche della persona che dove che vi apprestate ad esaminare e chiaramente non è una cosa che potete fare in anticipo perché non avete la possibilità semplicemente dagli atti di polizia di capire quale sia la formazione del soggetto a seconda della disponibilità del giudice potete impostare il controesame chiedendo al al test quale sia la sua formazione quale sia il suo campo operativo se ha delle esperienze accademiche o se ha pubblicato materiali eh e via discorrendo questa cosa vi serve per tarare il eh il controesame è chiaro che se la persona dimostra una competenza tecnica estremamente elevata e vi rendete conto che non è che non è una persona che eh ripete in modo appiccicaticcio le quattro nozioni che ha imparato beh ci dovrete andare con molta attenzione e magari dovrete cercare di spostare l'esame più che su componenti tecniche su eh questioni eh giuridiche e eh e di procedura viceversa se vi ricordi vi rendete conto che siete di fronte ad un soggetto che ha una conoscenza tecnica tutto sommato abbastanza eh limitata eh lì magari potete provare a forzare la mano perché presto o tardi arriverà al suo limite di incompetenza e quello che è successo nel procedimento successivo quello di cui riporto un altro estratto nel quale il eh finanziere che eh aveva eseguito le attività di perquisizione e sequestro alla domanda specifica eh sulle competenze eh in ambito di indagini informatiche rispose io ho la patente europea del computer è vero che parliamo del duemilacinque quindi non c'erano ancora molte certificazioni di sicurezza informatica però se andate a guardare che cos'è la patente europea del computer la patente europea del computer è una certificazione privata che che vi eh che certifica il fatto che sapete far far partire un computer sapete usare powerpoint e eh un programma di videoscrittura e poco più però questo è stato un titolo che questo finanziere ha ritenuto di dover spendere in sede di controesame ricordo che all'epoca eh il processo era celebrato davanti al tribunale di Bologna in aula era presente il professor Maioli che è ordinario di matematica ed è il padre della computer forensics in Italia che dal pubblico si alzò eh urlando ma non è possibile una cosa del genere una cosa che dalle nostre parti avrebbe provocato una reazione probabilmente molto dura da parte del giudice invece gli fu gli fu consentito di eh questo questo sfogo accademico a fronte di un'affermazione che non aveva realmente nulla di nulla di tecnico che cosa successe in questo processo parliamo del primo e mi risulta tuttora unico caso eh di procedimento penale a carico di una persona eh accusata di avere eh scritto diffuso un virus informatico eh nel corso delle indagini preliminari non venne fatta eh nessun nessun tipo di perizia eh extra 59 o tre o extra 60 per capire se che cosa facesse realmente quel virus cioè se fosse tecnicamente qualificabile come virus e la stessa cosa non venne fatta nemmeno nel nel dibattimento nonostante la richiesta della eh della difesa la metodologia utilizzata dalla guardia di finanza che eh si occupò di fare queste analisi tecniche perché all'epoca le indagini vennero affidate a un maresciallo che poi eh si è congedato si è prosciolto che si è messo a fare il consulente di sicurezza informatica eh le metodologie eh e le conclusioni utilizzate dal raggiunte dal maresciallo furono eh contestate dal perito di parte che eh al contrario aveva una formazione accademica e un'estrazione accademica eh già all'epoca estremamente eh estremamente robusta. Fatto sta che il giudice a fronte di questa discrasia emersa anche nel corso delle eh dell'esame e del controesame dei testi della degli operanti non ritenne di procedere ad una perizia dibattimentale. Con quale motivazione? Con l'estratto che vi riporto. Eh non è permesso al tribunale escludere a priori i risultati di una tecnica informatica utilizzata a fini forensi solo perché alcune fonti ritengono che bene siano di più scientificamente corrette in assenza della allegazione di fatti che suggeriscano che si possano essere astrettamente verificate nel caso concreto eh una qualsiasi forma di alterazione dei dati e senza che venga indicata la fase delle procedure durante la quale si ritiene essere avvenuta la possibile alterazione. Tradotto sono consapevole che gli operanti hanno sbagliato o hanno come hanno adottato delle procedure eh discutibili ma ma ci metto la pezza a colore perché questo significa eh questo passo eh reinterpretato in un italiano più eh più lineare. Questo criterio applicato alla prova informatica rende la prova informatica impossibile da contestare. Perché? Perché la prova informatica è per sua natura eh volatile. Il dato informatico una volta memorizzato su un sul disco rigido di un computer, su un disco SSD, quello che volete, è estremamente volatile. Quindi se io non adotto una serie di cautele che pure successivamente nel 2008, dal 2008 in poi, finalmente sono entrate nel codice penale dimostrando che chi sosteneva queste tesi poi alla fine non era pazzo. Se io non adotto determinate eh determinati criteri per congelare il contenuto eh di una di una memoria di massa, di un supporto di memorizzazione, non posso avere nessuna possibilità a posteriori di sapere se quel contenuto sia stato alterato. Quindi applicare il criterio del Tribunale di Bologna significa nella sostanza scaricare sulla difesa l'onere di dare una prova diabolica. Cioè il fatto che eh un un dato sia stato effettivamente alterato indicando la fase nella quale questo sarebbe accaduto. Per farvi capire l'impossibilità di questo eh eh di questo requisito pensate a un qualsiasi falso materiale per eh tramite per esempio la scolorina. La classica cancellazione con la lametta e la scolorina che eh finisce di fare il il lavoro. un perito chimico è in grado di rilevare eh la la presenza dell'utilizzo di eh del componente chimico e quindi la eh l'alterazione materiale del eh del documento, del pezzo di carta. Ma nel caso di un file, una volta che il file è stato modificato con eh delle tecniche peraltro non stratosferiche che ne consentono la eh che impediscono di verificare l'alterazione. La difesa come fa a dimostrare che il che quel file è stato alterato? Se non è stata adottata una procedura che garantisce che dall'ingresso della della degli operanti al momento in cui eh quei dati sono sottoposti al vaglio della difesa nulla è accaduto nel frattempo. E guardate che il tema è diventato drammaticamente attuale con il ricorso ai captatori informatici. Perché benché si voglia, si pretenda tuttora di considerare i captatori un uno strumento concettualmente analogo a quello di una intercettazione ambientale, non è assolutamente la stessa cosa. Perché una cinice è un oggetto fisico che non interagisce con il sistema che genera e raccoglie le informazioni. Che cosa voglio dire? Se io metto una cinice, se qualcuno mette una cinice nel mio studio e mi sente parlare, quella cinice registra la conversazione indipendentemente dal 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 mio strumento. Se qualcuno mi mette un captatore nel telefono, sta modificando il mio telefono. Io non lo so e non ho la minima idea di che cosa abbia effettivamente fatto quel captatore. In altri termini, e mi ricollego alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, come faccio ad essere certo che il captatore abbia effettivamente registrato quello che dice di avere registrato e non invece inserito nel telefono delle prove a carico. Attenzione, anche questa mi può sembrare fantascienza, però se andate a rileggere la polemica di qualche anno fa, che è nata quando si è scoperto che una società italiana di nome Hacking Team aveva realizzato i primi captatori utilizzati dai servizi segreti italiani, dalle procure e anche da governi stranieri, una delle cose che veniva fatta, non in ambito giudiziario, in altri ambiti, però era appunto quella di inserire contenuti o prelevare addirittura dei contenuti dai terminali o dai computer dei soggetti attenzionati. E quindi quando ci muoviamo a questo livello, in che modo possiamo essere certi che tutta questa operazione non abbia alterato o addirittura inserito delle altre prove, se non avendo un metodo, un criterio, una procedura che realizza una sorta di catena del freddo? Questa è la domanda. La domanda alla quale il giudice bolognese ha inteso rispondere sostanzialmente dicendo non mi interessa. Ciò che conta è se la difesa riesce a darmi degli elementi, io magari li prendo in considerazione, ma il semplice rispetto o mancato rispetto di procedure e regole non è sufficiente a costringermi a disporre una perizia. Badate quanto è subdolo il presupposto del ragionamento di questa sentenza. Formalmente il giudice non dice che ha sempre ragione la polizia giudiziaria, però guarda caso fra un professore del Politecnico di Milano e due finanzieri non laureati, uno dei quali dice di avere la patente europea del computer, il giudice dà credito, da peritus peritorum, dà credito al lavoro di queste persone, senza peraltro motivare sul punto. Allora capite che di fronte a un approccio di questo genere si può fare solo come fece San Francesco quando si salvò dall'accusa di eresia, si sdraiò per terra davanti al Papa, allargò le braccia e dite fate di me quello che volete. Stesso approccio è ripreso nella stessa sentenza che va anche oltre. Il giudice bolognese si rendeva conto che a fronte del contrasto fra tesi diverse di tipo tecnico la perizia era sostanzialmente inevitabile. Però alla fine dice sì potrei, dovrei farlo, ma la Cassazione non motiva, quindi non mi spiega perché dovrei farlo quando serve la carenza motivazionale aiuta. Però siccome la perizia è discrezionale e quindi decide il giudice se farla o meno, io ritengo che questo non sia necessario. Ripeto, nell'ultimo periodo trovate vogliamo chiamarla scorrettezza intellettuale della sentenza. In forza del primo principio il giudice può valorizzare un accertamento di parte, quindi non necessariamente quello della procura, dice il giudice, che sia ritenuto esaustivo, corretto e appropriato senza necessità di accertamento ulteriore. Sì, sarebbe opportuno però che il giudice motivasse in questo quali sono questi motivi che considerano l'accertamento esaustivo corretto ed appropriato. Questo ragionamento vi dà un elemento concreto per l'esame del perito. Quando siete certi o ragionevolmente certi che le conclusioni alle quali è giunto il perito sono non condivisibili, siano addirittura sbagliate, applicate questo criterio. Chiedete che il giudice, nel momento in cui dovesse valorizzare l'accertamento del perito opposto, del perito avversario, motivi espressamente sulla esaustività, sulla correttezza e l'appropriatezza delle conclusioni raggiunte. Fate verbalizzare questa indicazione, perché come purtroppo mi capita sempre più spesso di dover fare in udienza, ai fini dei motivi d'appello è importante che l'eccezione venga documentata. E quando le formulo a fronte della riottosità del giudice a consentire la verbalizzazione, sistematicamente devo utilizzare questa formula, quantomeno ai fini dei motivi d'appello. Che come potete capire è una sorta di segnale parallelo per dire, se non la ricusazione, l'invito all'astenzione è dietro l'angolo. L'estratto di questo articolo pubblicato già nel 2009 da Repubblica è forse l'archetipo del rapporto fra mondo giudiziario e scienza. Ricorderete lo stupro della Caffarella, fece parecchio rumore, ci furono dei, furono individuati dei soggetti all'epoca extracomunitari, peraltro poi assolti successivamente, furono indicati questi due soggetti extracomunitari che avrebbero addirittura confessato la violenza sessuale, peccato che i test del DNA non erano coerenti. Cioè i test del DNA dicevano sarà stato qualcun altro, ma sicuramente i campioni biologici trovati sul corpo della vittima non appartengono ai soggetti che hanno confessato. Che cosa risponde il procuratore di Roma? Ve lo leggo testualmente perché è veramente un bel pezzo di ragionamento. Per carità, di quel test del DNA non contestiamo le conclusioni, né tantomeno intendiamo censurare o mettere in dubbio il lavoro della polizia scientifica, ma è pur vero che al momento di quel test continuiamo a ignorare le sequenze e metodologia. Diciamo che è un lavoro ancora parziale. Agli atti abbiamo solo tre righe di conclusioni che ci dicono che i DNA refertati non appartengono ai due romeni detenuti. A nostro avviso è troppo poco per trarre una conclusione univoca in grado di cancellare l'intero quadro indiziario raccolto a carico dei due uomini che sospettiamo. Siamo stati noi a richiedere il DNA, ha sottolineato il questore, perché noi per primi vogliamo trasparenza e siamo stati noi a prelevare la saliva al più giovane dei due, fermati subito dopo la confessione. Pur ammettendo che il DNA è la prova regina, crediamo ancora nella bontà di tutto l'apparato accusatorio. Come a dire, quando il dato scientifico mi dà ragione, allora mi dà ragione. Quando il dato scientifico mi dà torto, beh, allora magari posso fare a meno di valorizzarlo come farei nell'altro caso. È chiaro che di fronte a un approccio del genere non c'è difesa, soprattutto quando, come in questo caso, il soggetto, gli accusati furono poi riconosciuti innocenti. Questa slide è importante perché vi dà la misura dell'atteggiamento mentale che perdura ancora oggi rispetto alle prove che hanno un contenuto tecnico e tecnologico.